Musica 6 5 4 soli 3 soli Solo qui ne manca una Piccola pausa A ripetere Senti esibuzione cercando di abbassare bene l'obelico Di nuovo vai 16 Perfetto 15 Così 14 13 Puoi rimanere l'aria 14 15 10 Convi gli ultimi 8 8 Ispira bene quando stai Ancora 4 3 Manca 1 Pauza Ok Iniziamo a lavorare Provo a partire Senti esibuzione Un pelo più profonda Provo a partire 8 Insieme Si va 8 2 7 Giù l'obelico 6 5 4 3 2 soli Manca 1 Pauza A ripetere Insieme Vai 5 5 6 5 5 5 5 4 Profondo 3 Senti bene con i piedi 2 Manca 1 Piccola pausa Per chi mi sta Per chi mi sta scrivendo Si tengo le punte stese Tengo le punte stesse Tengo le punte stesse Tengo le punte stesse Ok Ma cercando le gambe stesse Crouch Without solutini 8 Vai 7 non dondolare, non è questo ok? 4 ancora 4 3, attiva con gli addominali manca 1 piccola spalla 4 3, ultimo tiro, ultima cosa push 8 7 se fai troppo fatica puoi tenere le mani avanti 4 3, e si imbarca a niente spalla i giri adome mani controllo allungo le gambe mantengo il trance banalmente 1 minuto si? scapole ben alzotte testa in linea quindi entra questo è lì per questo spingi il stallone indietro e piazza i glutei classico qui ok? tieni, 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 tieni spingere la mano a terra se ti dà passaggio il polso l'idea è quella di mettere la mano come se dovessi coprire una cavalletta quindi non spingere quindi non spingere, non collassare sull'interno ma spingi sull'interno della mano ok? ti mancano ancora 25 secondi attiva bene quelle scapole mantieni, 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 mantieni si? poco ancora tienilo attiva, attiva, attiva glutei non perdere l'addome mi raccomando non perdere l'addome tienilo ultimi 8 7 6 5 4 3 2 mi dispendo glutei ok? riprendiamo da dove abbiamo scelto la volta scorsa 3 progressioni tutto sulla stessa gamba tengo la gamba a sinistra a terra la destra sollevata ok? attenzione perché non siamo in trattura le contrazioni corte veloci e isometria pronti ad andare gamba a sinistra a terra destra a costetta mani a terra palle basse più più sedere 8 a ritmo 8 6 7 facile 6 così 5 ancora 4 3 2 rimani in su 8 7 6 massima contrazione 4 stendi quell'anca spingi avanti quel ginocchio dentro l'obelico alti e veloci 6 15 14 3 12 11 10 9 ancora 8 7 6 5 4 3 2 pausa si stacca la sinistra a terra la destra si stacca resta a plezza a 90 gradi scapole super bene organizzate pronti a risalire 8 si va 8 6 7 7 ancora 6 5 4 3 2 isometria 8 massima contrazione 7 spingi avanti a terra 6 attiva quel gluteo cerca di spettarlo pronti a fare i piccoletti spingi veloci 5 6 7 quic punch 3 non con la schiena dentro l'ombelico ultimi 8 7 6 5 4 3 2 pausa molto bene senza gamba l'altra cerca di stendere cielo organizzo scapole pinte vai 8 7 6 e il fume è a salire non l'ombelico ultimi 2 rimani in isometria 8 7 6 più in alto 5 più in alto 4 più in alto 3 più in alto 2 più in alto alti veloci gli ultimi 16 15 12 13 12 al limite della contrazione forse coraggio 8 7 6 5 4 3 2 pausa se tu fai bene i gruppi di chiamare fastidio sì sì attenzione ci portiamo semplicemente in quadrupedia sempre con il gluteo sinistro e lavora ok quindi sempre il gluteo sinistro bene in posizione stabilizzo scapole controllo abduzioni 16 vai 8 7 6 5 4 3 ho la mulata 2 abbiamo riso i metri rimani in su 8 7 stabilizza bene 6 5 spingi bene sulla mano prende i pali piccoli alti veloci insieme ora 16 più in alto 12 ultimi 8 8 7 6 5 4 3 2 pausa pazzine per noi appoggi i gomiti posizione stessa esecuzione cambia angolo vai 8 stessa gamba 7 alza bene 6 alza bene 5 alza bene 4 ancora 3 ancora ultime 2 manca 1 tieni lì su metri a sinistra alto 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 il piede è attivo non è morta la gamba sei forte il piede vuole andare verso l'alto è come se la pucca volesse andare verso il soffitto prego i pali piccoli alti veloci alzi 16 15 12 13 12 14 10 contrai di più 8 7 prendilo fino alla fine 4 3 2 pausa mantieni l'inclinazione allunga bene il collo del piede terza e ultima esecuzione abbiamo il lavoro sempre in attuzione ma con l'incrocio ok? pronti? pronti? 8 7 calca i gommi qui 6 5 4 ancora 3 ancora solo 2 manca 1 e qua rimani su in isometria 7 ancora 6 6 ancora 5 ancora 6 4 ancora 7 3 ancora ultimi 2 manca 1 e abbiamo gli ultimi alti veloci in 16 15 15 16 13 12 11 10 dammi gli ultimi 8 7 6 5 soli 4 3 2 pausa molto bravi attenzione torniamo a stenderci a parte in giù come lo vedi il supino abbiamo la gamba destra da fare posizione gamba destra a terra gamba sinistra conserta così fate già un po' di stretti per i gluti e iniziate a defaticare quel gluto che poi ci torneremo mani lungo i pianti scappa la tocca andate qua on in va 8 6 7 tieni l'ubilito 6 concentra la spinta sotto il tallone 4 3 2 isometrico 8 7 così 6 così 5 così 4 ancora 3 ancora 2 ancora piccoli alti veloci 16 12 12 8 7 6 5 4 3 2 pausa posizione gamba salata in occhio vai 8 7 così 6 6 facili concentrati su quei glutei 4 così 3 2 2 isometria sono esercizi banali facili piuttosto isolati ok ma ti devono aiutare a concentrarti sul lavoro che stai facendo quindi bene sul gluteo quindi bene sul gluteo e l'intervento sulla coscia alti veloci 10 10 10 8 4 pausa 4 pausa piedi su teso 4 a terra 5 8 7 così alza l'altro lato gli ultimi 4 4 3 2 rimani su per 8 dentro l'ombelico stendi quella gamba 4 3 2 2 alti veloci ora 6 5 4 13 12 11 più in alto, più in alto, più in alto, più in alto, più in alto ronco la schiena 8 7 6 5 soli 4 3 2 si va 4 in pedia gamba destra gluteo destro al lavoro prima posizione stabilito abduzione attiva il piede push 8 7 6 5 4 3 2 rimani su 8 7 stabilita bene 6 stabilita bene 5 5 va bene amore 6 10 2 manca 1 alti veloci 6 15 12 13 12 11 10 ora lì 8 7 6 5 4 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 5 5 6 5 5 6 5 si va bene 4 cerca di sentire che sei al limite della contrazione più su non riesci ad andare alti veloci ora 6 15 14 13 12 11 10 9 8 7 15 in alto 4 3 2 basta abbiamo l'ultima versione per accorre il crocio posizione incrocia vai 8 6 7 6 5 incroci bene 4 3 2 rimani su 8 7 6 5 gli ultimi 4 4 4 3 2 alzi vai 6 più in alto 12 ultimi 8 7 6 5 4 3 2 pausa 3 4 5 5 6 5 6 6 7 8 8 8 8 9 10 10 12 10 10 10 11 11 11 12 21 12 13 14 15 15 15 16 15 15 16 più in precarico, quindi se prima di fermarvi sulla verticale scendi un po', automaticamente il vaccino tende ad andare in antiversione, poi controllate il movimento, ok? Pronti? Vai! 8, 7, se senti la schiena non andare tanto in là, ok? Vai! 4, precarica, 3, precarica, 2, precarica, piccola, pausa! Ciao a tutti quelli che stanno salutando, pronti di nuovo, 4, 3, 2, di nuovo, 8, 6, 7, ancora, 6, ancora, 5, ancora, 4, ancora, 3, ancora, solo un po' ne manca una, piccola pausa, più difficile, gambe sollevate, tenisci e stendete meglio, se no tienile il più possibile stese, stanno agli uniti, sì, si va, 2, da 8, 8, 7, 6, controlla, 5, ancora, 4, 3, 2, piccola, pausa, 4, 3, ultime 8, Pronti da andare, posizione, vai, 8, 6, 7, 6, controlla bene, 5, fuori l'aria, 4, 3, 2, piccola, pausa, ottimo! Ci giriamo, isometrie, un minuto di plan, questa volta sui gomiti, posizione, mani che portano a terra, gambe in estensione, stai, spalle, lontane dalle orecchie, testa e collo in allungamento, mani che spingono, talloni che spingono, ombelico che rimane, vai così, mantieni, mantieni, immagini che hai già fatto, 10 secondi, poco più, vai così, chi è che ci sta salutando? Simone? Ciao! Ok, continua, continua, continua! Fai già 25 secondi, mia che male, eh! Ora te ne rimangono solo 30 secondi, ricordati, le scapole, non sono tutte imbruttite in avanti, né tanto meno tutte indietro, attivale, cerca di spingerle, beh, c'è il balzo in modo da attivare bene, la muscolatura del gran dorsale e dei rotondi, sì, bene, così le scapole sono forti, il tronco è aperto, hai ancora 10 secondi, quante cose si possono dire in un minuto, sì, tagli, tagli, stai riportando i glutei dopo, 4, 3, 2, pausa, ottimo così, secubito laterale, gamba sinistra verso l'alto, sì, è la prima con cui hai lavorato, se hai fatto il contrario prima, allora fai il contrario anche adesso, la prima con cui hai lavorato, quella più rilassata, la gamba sinistra verso l'alto, ok? Ok! Posizione! Attendi che le cose si complicano perché introduciamo delle cose che faremo un po' più avanti, sì, e svilupparemo nel corso del mese, attiva bene, Mani, controllo, abducci in 8 isometrie, vai, 8, 6, 7, facile, 6, controllati che sia un bel angolo in 90 gradi, 4, 3, 2, mantieni l'isometria, il sinocchio spinge in diagonale avanti, non verso l'alto, altrimenti qua non fai nessun lavoro, sei in diagonale avanti, 4, il bacino è perpendicolare al suolo, non è ruotato, piccoli alti veloci, 6, 15, 12, 13, 12, 11, 10, è facilissimo per noi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, pausa! E questa è andata! Allungo la gamba, possibilmente tesa, sì, piede a martello, a 90 gradi rispetto al tronco, se proprio non te la fai la puoi tenere leggermente flexa o leggermente aperta, posizione, vai, 8, stabilizza il bacino, 7, spiora a terra ma non toccarlo mai, 4, ancora, 4, 3, 2, rimani, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rimani, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, pausa! Molto bene! Da qua dovresti sentire un po' di fastidio, vi avevo promesso un'ulteriore intensificazione dell'esercito. Ora, tu hai la gamba tesa, sì, prova a vedere quanto riesci a portarla verso il cavo, quindi a flettere l'anca, sì, devi sentire il prestiramento, quasi in stretta in la posizione. Quello che ti chiedo adesso è salire, aprire, scendere, per poi tornare, ok? Ok? Perfetto! Lo faremo a ritmo doppio, quindi 1, 2, 3 e 4. Tu mi devi promette però che il bacino è bello e stabile, quindi ferma sto bacino e lavora solo con l'arca. Vai! 1, 2, 3, ricorda, vai! Up, up, su, vai di nuovo. Up, up, su, di nuovo. Up, up, su, non toccare mai terra. 5, 4, dai così. 5, ancora. 6, perfetto. 6, ancora. 7, sì. Tieni, 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 tieni. 8, mi mancano solo 8. Tieni lì. 8, largo. 7, largo. 6, bene rotondo il movimento. 5, rotondo. 4 Rotondo 3 Rotondo, ultimi 2 Ah vai lei con la stitura 1 ancora Pausa Si Quadrupedia Sempre con la gamba sinistra al lavoro Gluteo sinistro al lavoro Torniamo in posizione Andiamo a fare semplici Don't be kick Ok Tiena, si va 8, 6, 7 6 5 4 3 2 Isometria 8 7, finita non è il schelo Golgi Ancora 4, ancora 3 Ancora 2 Dall'alto Alti veloci Ora 16 15 Torci Più in alto 12 11 10 15 minuti 8 7 6 5 Facile 4 3 2 Pausa Sesto gluteo Scendoci i gomiti Ammettiamo di stessità Semplicemente incrociando Ok Quindi Stesso movimento Cambia l'angolo Ma incrociando sulla gamba opposta 4 3 2 5 8 7 6 5 Bene il tallone 4 E stendi l'anca 3 Ricerca la massima contrazione Rimani su per 8 8 Finito sul tallone Così Bello alto 4 Ancora 4 Vieni alto 3 Vieni in alto 2 Vieni in alto Piccoli alti veloci 6 5 5 3 12 11 10 Più in alto 8 7 6 5 4 3 2 Pausa Da qua Concludiamo il lavoro Estendo la gamba La incrocio Ok E metto in prospettiva Rispetto a voi Gamba estesa Il lavoro sarà Una circonferenza In alto E incrociare Ok Aspire la terra In due tempi Ci va 1 2 1 2 1 2 1 2 Ancora 1 2 Ampio Si Alto Al cielo Così Ancora Alto Si Up E torna Up E si Ultime 8 8 7 Si così Ampio 6 Si così 5 Ampio Gli ultimi 4 4 Al limite Della piccolarità 3 Si Ancora 2 2 Manca 1 Arriva Gluteo Gluteo sinistro Finito Lecubito laterale Destro Verso l'alto Ok Stiamo destra Verso l'alto Gluteo peso Verso il basso Stabilizzazione 90 gradi 90 gradi Abducci 8 8 7 Attenti che poi nel corso delle lezioni questi esercizi diventeranno più complessi 4 ancora Perché fare questo esercizio in posizione di plank laterale è molto più difficile Rimani Quindi per ora concentrati sulla stabilizzazione del core Che un domani lo dovremo fare in una situazione ben più complessa Se non ti è chiaro questa cosa e la stabilizzazione non serve per nulla di più complesso Ok Alti Veloci Ora Sedici Dodici Otto Quattro Tre Due Pausa Allunga avanti 90 gradi Posizione Stabilizzazione Abduzione Ate via Quattro Tre Otto Sette Più su Sei Sette il martello Cinque Ancora Quattro Sette il movimento Tre Sette il movimento Due Ne manca uno Rimani agli esometri alto Per otto Sette Rimani in su Sei Cinque Gianfrazzesca Quattro Tre Ancora Ultime due Altre volte Si va Sette Qui Dove Tre Dove Ultimi Ultimi Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Si Abbiamo Quei lavoro Combinato Quindi Porto Il più Avanti Possibile Quindi Massima Pressione Lanca Attivo E cerco Di capire Questo Movimento Rotondo Si Dove Il piede Sfiora a terra Ma non appoggia mai Completamente Due tempi Per centici Vai Up Up Back E' Back Due Tre Quattro Cinque Ampio Sei Sì Così Sette Bella rotonda La traiettoria Otto Non fate i furbi Non fatelo diventare questo Che brutto Fai questo Sì Ne mancano solo Sei Ampio Cinque Ampio Quattro E' Sette Vene l'anca Ancora Tre Dalla massima Flessione Alla massima Estensione L'anca Manca uno Banda Quattro Per via Dai che siamo alla fine Ragazzi Tenete duro Nove minuti Alla fine Coppare giro Stretti Mani Posizione Pronti ad andare in su Atomi Controllo Capo di controllo Up Viva Dentro Sempre Veo Due Stesso gluteo Che appena finito Di lavorare Quattro Ancora Quattro Tre Due Rimani in su Otto Sette Sette Seis Cinque Quattro Tre Ultimi due Alzi veloci Alzi Sette Quinti Dovici Tres Dovici Undici Non perdere il scappo Non perdere la tromba Otto Sette Sei Marta Fuerte Marta Rapido Pausa Appoggiai i gomiti Stessa esecuzione Solo con l'incrocio della gamba sull'altra Ok Movimento Bello completo Quattro Tre Due Sari Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Rimani in su Otto Sette Sei Cinque Quattro ancora Tre Ancora Solo due Alzi veloci Fai Sei Quinti Dovici Tre Dovici Undici Die Più su Contrae Otto Sette Sei Sette la vita in quel gluteo Quattro Tre Due Dovici Vado a incrozzare la gamba estesa sull'altra Ricordando che il movimento è rotondo dalla abduzione alla leggera abduzione passando per l'estensione d'anca Ok Quattro Tre Sono sedici esecuzioni complete in doppio tempo pronti si va Sali Sali Scendi Sì Up Up Ben Go Up Up Sì Ancora Ma Quarte Sì Ne mancano Dodici Undici Dieci Nove Otto Così Sette Completo movimento Sei Pieni la schiena Vincisi i gomiti Cinque Levanta non solo quattro Quattro Ultimi tre Tre Ne mancano due Due Una Una sola ancora E Stop Da qua Stogli le camigliere Sì I glutei sono offensi Gli addominali non ancora Ma noi li offendiamo tutti così andiamo via a stagli offensi Tanto la pasta ormai è lontana Aspettiamo il peragosto Pugnizione L'abbiamo fatto la volta scorta Ve lo chiesti trovando per casa Era quel bellissimo movimento di Chris Cross Ok La volta scorta abbiamo fatto delle ripetizioni con pausa Ora meno Attenzione Ne facciamo Otto Singole Quindi a ritmo Pieno E otto Lente In doppio tempo Per due volte con pausa Tra questi due sei Ce la potete fare Attiva Vai Otto Otto Sette Sette Sei 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 Cinque Cinque Quattro Quattro Tre Tre Due Due Uno Letto Uno Sì Due Sì Tre Sì Quattro Posizione Singoli Vai Otto Otto Sette Sette Sei Sei Allunga Allunga Quattro Quattro Tre Tre Due Due Uno Letto Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Questa Malt Prendi La Cavigliera E Finiamo Abbiamo fatto La volta scorsa Lo ripasciamo Oggi Se hai La Cavigliera La pieghi In due Come un Panino E la Strigi Fra Le Ginocchia Se Non ce Hai La Cavigliera Prendi Un Asciugamanino Lo Pieghi In modo Non Farti Male E Lo Strigi Ti Fa Cadere L'asciugamanino O La Cavigliera Mi Manda Un Buon Filippo Mia Payball Per Uno Spritz Ok Perfetto Posizione Da rispondere Quando sarà Il Momento Posizione Controllo Stiamo agli ultimi Due minuti Che Partono Da Qua Up Down Up Down Up Down Up Down Ancora Su Perfetto Su Perfetto Su Perfetto Così Ancora 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 Ecuador Dai così Insisti Mantieni Hai solo un minuto e mezzo ancora Un minuto e mezzo solo Un minuto e mezzo Vai così Panino Cavigliera Ottimo Sì Vai così Mantieni Su e giù Quando scendi Spiora a terra Ma non scaricare mai il peso C'hai ancora Un minuto e 15 secondi 75 secondi Cosa vuoi che sia Tutto questo Per poter esporre Il magnifico sedere In spiaggia Dietro a un plexiglass That's life Vai così Vai così Vai così Vai così 55 secondi 55 secondi Non mollare Non mollare Ottimo 45 secondi Solo 45 Resisti 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 Mantieni 40 secondi Soli Su e giù Cerca di sentire Stavita sul gluteo Dagli dentro Dagli dentro 30 secondi Scrivete pure Ma continuate a lavorare Non vi vogliono Seduti a tavola A mangiare la porchetta E a scrivere Facendo più di far fatica Forza e coraggio Dagli Così 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 15 secondi 15 secondi 15 secondi Gli ultimi 15 secondi Chi offre di più Parto e coraggio 10 secondi Ultimi Venga così fatta 4 3 2 Pausa Molla il panino Stretching Ok Prendi le ginocchia Tirale lentamente verso le spalle Ma cerchi di tenere i piedi alti Per defluire Si Spalle basse Lontane dalle orecchie I piedi come se stessi cercando di sollevare qualcosa in una pressa Si Ottimo No woman No cry Molto bene Allunga le gambe Come al solito Libera le caviglie Ricordatevi che La parte della circolazione Dell'arco inferiore dipende proprio dalla perdietà dei vasi e la caviglia e la mobilità Cambia Tenete mobili quelle caviglie Fate tanti esercizi per liberarle Fate tanti esercizi a gambe alte in modo da ridurre i cristalli Venoso e linfatico Si Da qua Scendi Porta una gamba Con setta sull'altra Sollevi il tutto Prendi la coscia interiore E stira Ottimo Così Spalle basse Lontane dalle orecchie Tanto vi ricordo che Potete fare le lezioni funzionali di yoga E domani ci sarà lo yoga Paolo yoga con la Fabiana E ci sarà il core and flex domenica mattina con me Una volta di trovata scorsa Faccio un'ulteriore lezione sperimentale gratuita Per chi avessi biciclette da spinning O rulli d'allenamento Domani pomeriggio Faccio una lezione su zoom Dovete scrivere però a me Personalmente Non è una cosa organizzata da forum Stiamo ancora provando a fare degli esperimenti a titolo personale Quindi se volete partecipare Vedete scrivermi sul mio account O su messenger Tira 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 così E non è detto Ma potrebbe essere che Con la stessa modalità Una lezione di giro chinesis Anche domenica pomeriggio La facciamo Cercate di leggere Di studiare bene Così Tieni Tieni Insieme Ecco Tenete Tenete Scusate Ho permesso di non disturbare sul telefono Ma Sette telefonate Riescono di arrivare lo stesso Evidentemente Molla piano Palazzo Palazzo Under Un A Grazie a tutti.